Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, come al solito le prime 3-4 cose sono sempre le solite iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, abbiamo bisogno di gente nuova commentate sotto il video se avete qualcosa da dire perché il video su megalopoli sta piacendo molto, sta ricevendo un sacco di visualizzazioni a me questa cosa non può che far piacere c'è un sacco di dibattito anche e forse soprattutto con la gente che la pensa diversamente dalle opinioni che ho espresso io nel video lasciate mi piace se vi piace il video, non mi piace se non vi piace il video, apprezzo la sincerità e possiamo partire definitivamente con il video oggi si parla di The Substance, film di Coralie Farjat, lei aveva diretto un solo film prima di questo Revenge, il titolo era uscito mi pare 4-5 anni fa The Substance arriva da Cannes dove ha vinto il premio alla migliore sceneggiatura nelle sale internazionali sta facendo impazzire letteralmente il pubblico io l'ho visto in Irlanda il giorno dell'uscita esce in Italia mi pare per Lucky Red se non sbaglio il 30 ottobre in corrispondenza di Halloween ci sono state le prime anteprime negli scorsi 2-3 giorni infatti sarò in dubbio se fino all'ultimo, se pubblicare questo video diciamo adesso intorno alla data in cui lo sto girando quindi circa il 20 di ottobre, 21, oppure a film uscito così da scatenare forse un maggior dibattito questo perché The Substance è il classico film di cui parlarne è un po' come camminare sugli specchi non sai mai dove inizi la frontiera dello spoiler non si sa mai quando iniziano le anticipazioni sulla trama del film io cercherò di fare il meglio per non anticiparvi quasi nulla del film perché è assolutamente necessario che voi arriviate non dico senza traccia di cosa parli il film però diciamo a mente abbastanza sgombra quindi se ci tenete interrompete la visione del video ora se no, se avete visto The Substance o se volete farvi un'idea sul film, continuate allora The Substance parla di questa attrice che si chiama Elizabeth Sparkle interpretata da Demi Moore che inizia ad avere fra virgolette una certa età perciò la tv non la vuole più lei ha questo programma dove diciamo insegna a muovere il culo fra virgolette perché si intitola Pump It Up, lo spettacolo e è un programma che va in onda su questa grande rete e lei è trascinante, brillante, intrattiene con le sue danze, i suoi balli anche piuttosto sensuale da un certo punto di vista a un certo punto il tycoon, l'imprenditore, il capo di questa tv un Berlusconi, vogliamo porla così, un Berlusconi la licenzia perché il pubblico è in cerca di cose nuove il pubblico vuole la freschezza lei ormai è un bel po' che ha questo programma inizia a diventare fra virgolette vecchia e quindi non la vuole più e lei non riesce più a trovare lavori adatti per lei viene a scoprire un po' per caso di questa sostanza chiamata proprio così la sostanza non so come verrà tradotto in italiano perché io l'ho visto in originale il film comunque credo la chiameranno la sostanza che crea, è in grado, è questo acceleratore di particelle in grado di creare una versione migliore di te stesso una versione migliore che può vivere al posto tuo solo per una settimana una settimana sì e una settimana no la questione è appunto io mi inietto questa sostanza in vena le mie particelle, le mie cellule vengono sdoppiate si crea questa seconda versione migliore di me però io e la mia seconda versione dobbiamo alternarci noi siamo la stessa persona siamo un'unica entità che però si sdoppia in due corpi il corpo, il primo corpo, quindi quello fra virgolette peggiore vive una settimana e il secondo corpo vive un'altra e si devono alternare un'altra condizione è che ogni giorno la versione migliore si deve equalizzare quindi prendere del sangue dalla versione fra virgolette peggiore sto dicendo troppe volte fra virgolette scusatemi e iniettarselo perché sennò inizia un po' a sbarellare gli esce il sangue dal naso e ogni settimana tassativamente si deve cambiare persona e non è proprio fra virgolette non è basta non è una persona che si cambia si deve cambiare corpo è una sorta di rielaborazione del concetto di Dr. Jekyll e Mr. Hyde The Substance è un film estremamente pieno di citazioni di qualsiasi tipo letteraria c'è Frankenstein c'è il caso del Dr. Jekyll e Mr. Hyde c'è dentro un sacco c'è Shining per certi rimandi visivi c'è il Cronenberg a cui il film diciamo si ispira in certe sue modalità in certi suoi stilemi ricorrenti c'è Carpenter con l'uso estremo di trucchi fisici l'assenza quasi totale di effetti speciali al computer quindi questa Elizabeth Sparkle assume questa sostanza che si diciamo prende come un pacco Amazon praticamente tu la vai a prendere in questo armadietto in questo locker ed è un pacco fai da te cioè questa è proprio mi è piaciuto un sacco questo dettaglio è proprio il capitalismo portato alle sue estreme conseguenze quindi tu che diventi migliore in maniera fai da te come fosse proprio un pacco di un'azienda che te lo spedisce a casa o te lo vai a prendere quindi questa roba è già pazzesca per me lei assume questa sostanza e crea questa nuova versione di sé che si chiama Sue interpretata da Margaret Quelli che nel film è meravigliosa bravissima, bellissima, trascinante il suo ruolo lo veste alla perfezione Demi Moore pure di grandissimo spessore nel film forse il suo ruolo della vita però come in tutti i film le regole sono fatte per essere diciamo spezzate per non essere rispettate e da qua in poi ops luce da qua in poi vi lascio trarre le conseguenze di cosa succederà io vi ho fornito solo una sinossi questa è la trama di base del film il film poi continua è un tripudio per me The Substance e qua forse mi sbilancio ma neanche troppo è il film più bello uscito finora nel 2024 un mix di intrattenimento violenza horror body horror perché il film è prevalentemente un body horror veramente scoppiettante l'ho trovato intrattenitivo al massimo e è un film assolutamente da vedere in una sala piena cercate il cinema più grande vicino a voi che lo faccia fiondatevi in una sala in un giorno in cui secondo voi c'è gente perché assolutamente questo film merita per le reazioni che suscita nel pubblico io per esempio verso il finale che è una roba in cui i volumi vengono tirati su al massimo diciamo che si spinge l'acceleratore in maniera assurda quasi al cinema intanto mi reggevo abbastanza la poltrona perché è molto disgustoso ma il mio vicino di poltrona era lì che con una mano si copriva gli occhi e con l'altra si teneva la poltrona urli nella sala applausi a scena aperta è stata un'esperienza divertentissima vedere questo film forse anche l'esperienza che contribuisce a diciamo aumentare il parere su The Substance ma ora passando un attimo alla critica al commento del film chiaramente The Substance è una denuncia femminista femminile estremamente alla reificazione del corpo della donna siamo posti di fronte a questo corpo prima di prima di Demi Moore poi di Margaret Quelli che sempre di più si trasforma sempre di più diventa qualcos'altro è intorno a lei questa società che diciamo pompa la bellezza che richiede la bellezza statuaria la bellezza proprio all'apice del termine che anch'essa si trasforma cambia ti accetta prima e poi ti butta via dopo in questo gioco di potere che è sottolineato da una regia per me assurda Coralie Farjat io non ho visto il suo precedente film ammetto qua tira fuori una regia perfetta sotto ogni punto di vista di una precisione quasi maniacale per certi movimenti di macchina cioè veramente a parte la regia che è pazzesca secondo me c'è proprio un camera working assurdo qua cioè ogni focale è perfetta ogni movimento di macchina è controllato ci sono prima movimenti di macchina molto lenti poi questi dettagli storti sui visi delle protagoniste dettagli sul corpo è un film che vive molto di dettagli molto poco di campi e grandi spazi per certi versi è assolutamente claustrofobico che tira fuori una forza un'energia assurda è un film che risuona di hyperpop da un sacco di chilometri di distanza perfetto per la nostra cultura in cui appunto questa denuncia fortissima al sistema da un certo punto culturale dall'altro punto di vista prevalentemente economico si fa sentire un escalation di violenza che è veramente anche per certi versi pesante da sopportare cioè ci sono dei momenti in cui lo schifo è talmente alto che è proprio forse la regista la prima a invitare il tuo sguardo ad andare da un'altra parte ma io questa componente qua l'ho trovata veramente perfetta importantissima in questo senso parlando della regia è appunto la scelta di colori The Substance è un film che diciamo non è delicato per niente non è assolutamente un film delicato se cercate diciamo la sottile metafora della società filosofica e misurata non andate a vedere The Substance perché non è questo quello che avrete la critica è sparata in faccia proprio agli spettatori nell'ultima mezz'ora si pompa l'acceleratore al massimo ma questa era l'unica scelta secondo me possibile per questo film vuoi fare un body horror che riesca a intrattenere gli spettatori che riesca a portare a termine la sua critica che per quanto non sarà una cosa sui massimi livelli filosofici è riuscitissima per me non puoi fare un film delicato all'iraniana fra virgolette pieno di sentimenti toccati sussurrati parole non dette The Substance qua gioca con l'eccesso si crogela proprio sul letto dell'eccesso c'è un gusto che diciamo viene evidenziato per tutto il film che tende a portare al grottesco anche queste inquadrature che sono dei primissimi piani che sembrano quasi dei fisheye alla Lantimos sono rappresentative di questa scelta artistica dicevo la scelta dei colori è un film che si fa di colori pompati anche qua super estremi dal rosa della pelle che è un rosa perfetto al giallo del cappotto all'arancione vivissimo dei corridoi alla scacchiera bianca e nera del bagno in cui viene assunta la sostanza tutto è molto assettico tutto è molto claustrofobico in questo mondo privo di stimoli una dimensione in cui ci farebbe anche un po' schifo vivere contrapposta a questo grande open space affacciato su Los Angeles in cui vive Elizabeth Sparkle è un contrasto molto figo questo secondo me che si viene a creare in un film che appunto fa dell'uso dei colori e della della macchina da presa il suo punto di forza e qua faccio un altro piccolo spoiler importantissimo la sinestesia che diciamo governa il film per gran parte del tempo abbiamo scene in cui il sonoro è importantissimo costruito da dio in questo film forse esagerato in certe parti gli squartamenti tutti sono diciamo esagerati al massimo ma perché lì è una scelta chiaramente della regista portare tutto al massimo livello cioè se una cosa è A Coralie Farjad nel film la fa diventare A al cubo nel senso questo vi ripeto non è il film della delicatezza The Substance è un film in cui il tema del due del doppio della diade viene portato al massimo è un film che gioca di risposte di contro risposte di ribattere e di incassare il colpo un film che si basa talmente sulla risposta che appunto si può dividere una struttura a domanda e risposta e la risposta il problema è che è sempre più al limite sempre più estrema sempre più grottesca e schifosa un film che mette in paragone questa bellezza statuaria della fotografia della regia delle attrici scelte con dall'altra parte l'horror che è uno strumento diciamo di narrazione che usa il film prevalentemente oppure con l'idolatrare il corpo la forma del delle attrici contrapposto a questo deterioramento progressivo questo schifo che diviene sempre più presente all'interno del film e questo non vi dico come succede chiaramente perché se no vi rovino la sorpresa e questo è un contrasto che ci fa molto riflettere io ho riflettuto molto vedendo questo film cioè arrivi parti da un punto e arrivi all'ultimo punto che dici come si è fatto ad arrivare a così tanto come si è fatto ad avere delle premesse così buone rispetto a una diciamo a un corpo finale così schifoso così putrido così marcio ed è un film che progressivamente si marcisce diventa tutto più corrugato più schifoso lo vediamo nella sceneggiatura e lo vediamo nella forma proprio nella bellezza del film che progressivamente si deteriora e una cosa importante è la strada che viene presa nel finale adesso non vi spoiler assolutamente niente ma c'è un momento che diciamo crea un bivio nel film un bivio sostanziale in barba al titolo del film questo momento sancisce una presa di posizione che è diversa da quella che forse avrei voluto io è un po' più classica ma al contempo è leggermente più difficile da mantenere questo perché perché nel film a un certo punto appunto si prende questa strada che è leggermente più basic più diciamo vista ma in un certo senso più difficile perché se con una avevamo il colpo di genio con l'altra abbiamo un colpo di genio che però si deve costruire ancora e niente io direi di finirla qui ho detto fin troppo su The Substance è un film meraviglioso se ne avrà occasione di parlare scoppiettante intrattenente bellissimo andatelo a vedere al cinema questo va visto al cinema se no perde il suo senso di esiste